I just wanna make you sweat I wanna make you sweat I just wanna make you sweat I wanna make you sweat I wanna make you sweat I sweat Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video quest'oggi volevo farvi il regalo per i 200 iscritti e le 100.000 visualizzazioni oramai passate intanto volevo complimentarvi perchè in pochi giorni siamo arrivati anche oltre 210 iscritti e quasi 110.000 visualizzazioni quindi ormai il mio canale sta veramente andando alla grande e spero che possa continuare nei secoli nei secoli a me no vabbè a parte gli scherzi quest'oggi volevo mettervi questo file in download ovvero il gioco di Nazoom 11 3 Sekai Hino Shosen The Ogre più il mio salvataggio me l'avete richiesto in tantissimi in troppi direi più che altro commenti del genere blast mi prendere il download del gioco mi prendere il salvataggio come si fa questo come si fa quell'altro come ho preso questo come ho preso quell'altro come ho preso il salvataggio e bla 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 ho deciso quindi di compressare il tutto in questo archivio che peserà 361 megabyte ma mi voglio assicurare mi voglio dire che il gioco è abbastanza pesante non so per quale motivo però è così è più o meno 530 megabyte e il salvataggio 65 kilobyte sta registrando? si comunque lo caricherò su deposits files mi sono appena registrato proprio per fare questo vi lascerò dunque il link appena finirà dato che ora siamo ancora a 2% che palle e direi che stiamo andando anche abbastanza veloci però niente questo qua è è un file abbastanza grande e per fortuna sono riuscito a compressarlo non voglio compressarlo più di una volta perché magari può succedere qualche casino comunque volevo innanzitutto per farvi anche vedere questa schifosa grafica che ha messo su youtube ma che cazzo di grafica è? ma cos'è? cos'è? cioè io dico ha caricato un nuovo video logicamente Jimmy invece c'è gli è piaciuto il video a toby games ha preferito questa play ha preferito questa playlist garrick c'è l'epimitscap tutte queste persone hanno fatto piacere hanno caricato hanno commentato hanno fatto playlist non si capisce più un cazzo non devo ammettere niente cioè qua ci sono tipo l'unica cosa positiva è che tipo se c'è delle nuove novità non solo di caricamento video ti puoi vedere tipo oggi sono iscritto al canale ufficiale della wwe e vedo che tipo ha caricato questo nuovo video o ha aggiunto però nulla cioè non si capisce niente non si capisce niente io potrei mettere solo video caricati il problema è che dovrei farlo per tutti perché cioè vedete tutti hanno tutte le attività invece io vorrei fare solo video caricati andiamo a vedere quindi tutto così cioè vorrei farlo uno per uno quindi la grafica è schifosa parliamo di una cosa ancora più bella altro che grafica di youtube ma del mio canale qua beh posso anche lasciare su dell'attività che è mio vabbè qui appena caricato da più o meno un'oretta l'aggiornamento di pokemon bianco 2 e la nuova parte la seconda sempre più forte sempre più powa volevo dirvi che in questi giorni ora questo video verrà caricato boh probabilmente anche già martedì o mercoledì no martedì mentre mercoledì o giovedì dovrò caricare un video per il concorso di blackbuster 95 appunto un altro aggiornamento di pokemon bianco 2 unicamente dedicato a lui per il suo contest che non so ancora cosa si vinca però non mi interessa dato che io ho il gioco e voglio partecipare intanto domani un altro mese passato su youtube e siamo allora marzo, aprile, maggio, giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre se non erro più o meno nove mesi su questo canale e nove mesi guardiamo i risultati sono veramente tanti anzi direi anche troppi oltre le mie aspettative poi ho fatto in questi giorni ho fatto anche il template per youtube in azuma un canale che boh se mi ricordo la sua descrizione se no niente che appena si collega il nostro amico mio amico non che youtuber sarà rapido 393 io lo mando come ho detto skype aceto perché chi volesse il mio contatto me lo mandi tramite tramite niente tramite nulla tramite messaggio privato tramite commento preferisco per un messaggio privato però è così almeno una alla volta me lo credo se no mi possono arrivare tipo delle richieste da uno sconosciuto che ha manco suo nome allora non conviene quindi uno per uno tramite messaggio privato me lo mandi quindi per oggi è tutto ci fettiamo su questa grafica che stiamo ancora a 5% come vedete sembra che navighiamo veloci però i megabits sono tanti spero che come regalo vi sia piaciuto e che la maggior parte delle vostre domande si riuniscano dunque in questo video e niente ci vediamo alla prossima grazie ancora per i 212 iscritti e le 110 quasi 110.000 per le soluzioni video grazie e arrivederci ciao da Blast